In questa edizione delle DNews non passano le emozioni di sfiducia presentate contro il sottosegretario Giuseppe Castiglione. Il Movimento 5 Stelle dice che si è voluto salvare ancora una volta il malaffare. Il vertice di maggioranza voluto da Crocetto non ha affrontato le frizioni politiche ma solo le questioni legate alle riforme. Correnza e ottimo rapporto, afferma il governatore. Emergenza Casa Catania, tante le problematiche evidenziate dal Sicetto come l'abusivismo mai sanato, i finanziamenti a rischio e il social housing mai partito. Presentato Teatri Riflessi, il Festival Nazionale dei Corti Teatrali organizzato all'Associazione Iterculture, la cui sesta edizione si svolgerà come la tradizione del suggestivo cortile esterno all'ex Monastero dei Benedettini di Piazza Dante, dal 26 al 28 giugno. 1896 Mentre ad Atene è il primo anno delle Olimpiadi dell'era moderna e Spiridon Lewis vince la Maratona. A Catania apre il primo punto vendita che diventerà un riferimento assoluto per lo sport italiano. Nasce Zacca Sport Cogli l'opportunità del salto triplo. Acquistando tre articoli fra abbigliamento e calzature, il meno caro lo pagherai solo un euro. Zacca Sport A Mister Bianco nei due punti vendita di via Aldomoro 53 e 61 e l'apertura del nuovo megastore di Sport in via Zacca Rosalia 24, angolo via De Felice. Format Rendiamo concrete le vostre idee. Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser, progettazione e realizzazione in plexiglass. La stampa che prende forma. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168. A Catania in via也 Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. Cesicop è il centro servizi interprovinciali di confe cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in start-up sui servizi offerti. Cesicop sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. L'aula della Camera ha respinto tutte le mozioni di censura contro il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, coinvolto nell'inchiesta di Mafia Capitale e in particolare nelle indagini sul centro di accoglienza di Mineo in Sicilia, nello specifico la mozione del Movimento 5 Stelle ha avuto 108 voti favorevoli e 304 contrari, quella di Sello 92 sì e 303 no, infine quella targata Lega ha avuto 86 voti favorevoli e 306 contrari. I garanti al malaffare Castiglione dimetti di scrive in un tweet il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo commentando il voto dell'aula. Il PD si legge nel blog vota contro la mozione del Movimento 5 Stelle e salva l'indagato Castiglione, un nuovo centrodestra e sottosegretario all'agricoltura coinvolto nell'inchiesta di Mafia Capitale. Nel 2011 il cara di Mineo era una sorta di mega residence per le famiglie dei soldati americani, scrivono ai parlamentari 5 Stelle. Poi l'allora ministro degli interni, Roberto Maroni, lo stesso che in questi giorni minaccia i sindaci lombardi di non accogliere i migranti, decide di trasformarlo nel più grande centro di accoglienza d'Europa. Oggi si rimangia tutto, ma la realtà è che fu proprio il leghista Maroni a trasformare Mineo in un centro migranti SPA, favorendo incontri come quello tra Luca Odevana e l'attuale sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione, il braccio destro di Alfano in Sicilia, il primo è stato arrestato nell'inchiesta Mafia Capitale, il secondo indagato. Fin dal suo ingresso in Parlamento, rivendi con i grillini, il Movimento 5 Stelle ha sempre denunciato le reti affaristiche e clienterali che si annodavano intorno al business dei centri di accoglienza dei migranti. Solo sul cara di Mineo, dall'inizio della legislatura, abbiamo presentato, dicono, 29 atti parlamentari, tra interrogazioni, interperlanze e ordini del giorno di fronte ai quali il Governo non ha mai risposto adeguatamente. Dopo i continui botte risposta, prima del vertice di maggioranza convocato dal Presidente Crocetta, che annunciavano una maggioranza appunto in crisi con il Governatore, ieri, dopo la riunione, tutto è sembrato filare liscio. Insomma, un vertice che è sembrato più una semplice riunione piuttosto che un assestamento dei quadri dirigenti. Accantonati, infatti, i temi politici, si è parlato per poco più di un'ora solo dell'ordine del giorno crocettiano, ovvero le riforme da fare e quelle ancora non fatte. L'incontro si è svolto sulla base del documento che il Presidente aveva diffuso a tutte le forze politiche, insieme alla convocazione, e ha individuato tre obiettivi fondamentali da perseguire, da qui alla fine della legislatura, il rilancio alla coesione sociale, le politiche di sviluppo, la coesione politica, governo, partiti, Parlamento, quest'ultima intesa come sostegno alla Presidente. Per Crocetta serve una riforma vera sui liberi consorzi e comuni, lo sblocca Sicilia per il rilancio e lo sviluppo attraverso la sburocratizzazione e il principio di responsabilità dei burocrati, il testo unico sulle attività produttive per facilitare l'inserimento in nuove aziende, la riforma dell'acqua coerentemente con il referendum sull'acqua pubblica, misure di legge sulla formazione professionale, misure di sostegno e reddito per i disoccupati. Come scrive Crocetta in una nota, le leggi sono già tutte incardinate e contengono anche i provvedimenti essenziali. All'interno di sblocca Sicilia, ad esempio, è presente una norma che consente di evitare il dissesto delle province e il licenziamento dei lavoratori. Accanto a questo, alcune norme relative a modifiche sulla legge finanziaria, come la gestione dell'emergenza e dei rifiuti, che tra l'altro sarà oggetto di un incontro con il Ministro Galletti. Dunque il Presidente ha ribadito che la politica dei tagli non può essere più praticata nelle dimensioni in cui è stata praticata dal 2013 al 2015, senza compromettere e aggredire lo Stato sociale, e che ha posto drammaticamente il problema della questione sociale che parte dalla difesa dei disoccupati e dei precari. Per questo, aggiunge Crocetta, ci sono messi alle spalle il vecchio sistema di sprechi e corruzione, anni di stasi totale, burocratica ed economica, rilanciando un nuovo modello che, partendo dai fondi europei, da un nuovo modello di amministrare, sta salvando la Sicilia. Il peso è il passato a proporzioni enormi e le misure hanno effetto nel tempo. Crocetta poi ha aggiunto che non è affatto in discussione il rapporto con il Governo Renzi, ma semmai è esattamente il contrario, ovvero la richiesta di maggiore interlocuzione. Così come con la maggioranza, oltre a condividere il piano delle riforme, dobbiamo, dice il Governatore, condividere un cronoprogramma che garantisca che le seste vengono approvate. Su questi temi tutti i rappresentanti al tavolo hanno manifestato lealtà e disponibilità. La polizia ha tratto in arresto Caruana Dario, classe 1978, pregiudicato, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto ritenuto responsabile, in concorso con Guglielmino Salvatore, classe 1972 e altri soggetti non individuati, di omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e al fine di agevolare il gruppo mafioso appartenente a Cosa Nostra, già facente capo ammirabile Alfio, classe 1964. La notte del 29 aprile 2004, in via Galermo, nei pressi di una rivendita ambulante di Panini, di Pasquale Salvatore, classe 1969, pregiudicato, inteso Giorgio Armani, veniva ucciso con numerosi colpi d'arma da fuoco al torace, alla schiena e agli arti. Le indagini svolte dalla squadra mobile avevano evidenziato il coinvolgimento del predetto fatto di sangue di Caruana Dario e Guglielmino Salvatore, sospettati di essere tra gli esecutori materiali dell'omicidio. Le investigazioni condotte nei confronti di appartenenti alla Cosca Santa Paola Ercolano avevano tra l'altro evidenziato che in seno alla citata organizzazione era in corso una lotta intestina tra il gruppo facente capo a Santa Paola Antonino inteso Nino Upazzo e ammirabile Alfio, cui si contrapponeva la famiglia Ercolano Mangion. I contrasti già risalenti al 2003 erano determinati da contese in ordine all'accaparramento di estorsioni a cui erano sottoposte aziende della zona industriale di Catania e dall'intenzione della famiglia Ercolano di contrastare il ruolo da protagonista che Santa Paola Antonino stava assumendo nell'ambito dell'organizzazione. Quest'ultimo, peraltro, aveva elevato Mirabile Alfio, suo cognato, a rango di reggente della famiglia Santa Paola. Il 24 aprile del 2004 Mirabile Alfio, deceduto poi nel 2010, veniva ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco rimanendo gravemente ferito con una paralisi agli arti inferiori. L'omicidio di Di Pasquale, avvenuto a distanza di pochi giorni, costituiva una risposta all'attentato in pregiudizio di Mirabile. Infatti, il Di Pasquale, appartenente alla frangia opposta dopo il tentato omicidio di Mirabile, aveva apertamente gioito per quanto accaduto. Le risultanze investigative raccolte all'epoca nel corso di attività che sfociò nell'esecuzione in data 20 luglio 2004 di provvedimenti di fermo operazione risico emessi proprio per infrenare la temuta escalation di omicidi dalla procura distrettuale della Repubblica di Catania per il reato di associazioni mafiose nei confronti di appartenente alla Cosca Santa Paola Ercolano, tra i quali i predetti Guglielmino, Caruana, Mirabile Francesco, Mirabile Paolo, si sono arricchite con le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del Caruana in ordine all'omicidio di Di Pascuale. L'uomo è stato associato presso la casa circondariale di Catania Bicocca. L'incontro che si sarebbe dovuto tenere oggi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico per il caso Mirmex è stato rimandato a data di destinarsi. Una comunicazione ufficiale che è arrivata ieri mattina che non è piaciuta ai rappresentanti sindacali e ai lavoratori che hanno deciso anche questa mattina di manifestare davanti ai cancelli dello IOM. La comunicazione ci delude e ci impensierisce e dichiarano i rappresentanti sindacali di Cigelle e Ficltem Cigelle e Wiltec Wil e Cisal di Catania ma continuiamo ad avere fiducia nell'istituzione e nel fatto che un'avvertenza come questa vada discussa su tavoli nazionali. Ci rimane dunque la concreta speranza che la riunione venga riconvocata al più presto al Ministero. Nell'attesa dicono i sindacati continuiamo a lanciare l'appello al Direttore Generale Calvi a presentarsi alla prossima occasione per concorrere insieme agli altri attori del tavolo a trovare una soluzione condivisa affinché il laboratorio venga rilanciato nel rispetto degli impegni assunti al momento della cessione. Sappiamo invece poter certamente contare sulla presenza del Sindaco Bianco e del Presidente Crocetta rappresentanti di due istituzioni che hanno il dovere ma anche il diritto di presenziare ad un confronto che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di un laboratorio di eccellenza e dunque del territorio. Nei giorni scorsi Mirmex aveva comunicato ufficialmente la non adesione al tavolo romano e aveva puntato il dito contro i sindacati che impedendo l'ingresso ai lavoratori richiamati al lavoro per un solo mese sarebbero i responsabili del mancato dialogo accusa che il sindacato ha pubblicamente respinto. Sono tanti problemi che riguardano la questione casa a Catania si può parlare dell'abusivismo messanato e finanziamenti a rischio ma anche del social housing che non è mai partito da qui il punto della situazione è voluto dal Sicet che dice cosa deve essere fatto e cosa deve fare soprattutto il comune e gli enti preposti a tal proposito. Noi abbiamo detto all'amministrazione che tutto ciò che è pronto deve essere dato l'amministrazione continua a ripetere c'è poco incominciamo ad avere come abbiamo di più incominciamo a dare non è questo il problema il problema è di recuperare tutto quello che c'è e ce n'è tanto e ci sono alloggi a Cibali ci sono alloggi in via Bernini dove c'è stato l'incendio e per cui non ci sono mai vendute e si potrebbero recuperare per fare social housing vi sono altri alloggi in tanti posti della città Santa Mandalena e quant'altro noi vogliamo che questi alloggi finiscano di fare le gare per vendere perché non vendono perché ha una vita che prova il comune di Catania a vendere e voi sapete meglio di me che non ci sono mai riusciti e continueranno ora pare che abbiano girato l'ostacolo dicendo se non è per questo li diamo per il social housing o li trasformiamo per civile abitazione noi vogliamo che questo discorso lo mettano non solo sulla carta ma operativo c'è e si possono incominciare a dare qualche alloggio che è pronto diamo tutto quello che è pronto e ce n'è se loro continuano a dire dobbiamo recuperare per poi verificare quello che dobbiamo fare bene noi siamo pronti a scendere in piazza e non fra sei mesi ma subito per far capire alla gente che ci sono i presupposti per poterli avere questi alloggi anche se ce n'è uno solo da poter dare togliamo una famiglia e mezza la strada quello dell'emergenza casa è uno dei tanti problemi che deve affrontare questa città i numeri non sono a favore delle famiglie meno fortunate come può intervenire l'amministrazione Catania vive una fase drammatica di carenza di posti di lavoro di mancati progetti che possono farci intravedere una speranza per un futuro in crescita la questione casa è una questione che esprime tutta l'evidenza del dramma sociale che vivono molte famiglie catanesi però è pure vero che risorse disponibili ce ne sono e allora ieri si parlava della presentazione del piano casa Sicilia da parte dell'assessore regionale delle infrastrutture sarebbe opportuno che l'amministrazione catanese convocasse un incontro immediatamente che vede insieme le parti sociali nel territorio catanese così come l'assessore regionale per capire quali di questi finanziamenti possono essere utili a mettere in sicurezza comunque a riqualificare i beni che sono nel territorio e possono essere ristrutturati e messi a disposizione di tante famiglie che aspettano i dati ci dicono che gli alloggi presenti nel territorio appartengono per il 50% all'UACP per il 50% al Comune di Catania e quindi il Comune di Catania gioca un ruolo importante e fondamentale in questa fase quindi la proposta è quella di incontrarci istituire una task force che mette al centro il problema sociale della casa che fa una ricognizione di tutto quello che sono le risorse disponibili per il social housing per l'amorosità incolpevole e con la partecipazione di chi rappresenta le persone nel territorio si possa venire ad una soluzione tanti sono gli strumenti che devono essere valorizzati così come importante un impegno in sinergia per risolvere il problema delle occupazioni abusive non si può più tollerare un intervento va fatto di chi ha competenza ad intervenire proprio per favorire le persone che sono in attesa di un alloggio l'incendio che si è sviluppato ieri in via Quicella Porto apre una profonda riflessione su quella che è la situazione di molti terreni nella nostra città terreni per lo più incolti con erbacce alberi secchi che rappresentano un vero e proprio pericolo per tutta la cittadinanza infatti con l'arrivo della stagione estiva è molto facile che questi terreni possano innescare degli incendi sia per la l'oncuranza da parte dei cittadini ma anche per fenomeni naturali ed è per questo che abbiamo chiesto all'assessore all'ecologia del comune di Catania Sarodagata come l'amministrazione pensa di intervenire e quali suggerimenti devono essere dati alla cittadinanza La nostra amministrazione ha sempre sollecitato i privati a predisporre le idonee recensioni nei terreni per evitare che in questi terreni possano essere scaricati materiali come diretti risulta facilmente infiammabile non c'è dubbio che bisogna fare in modo che i terreni vengano a essere puliti ed è un obbligo dei proprietari farlo noi possiamo predisporre le ordinanze e anche le operazioni come dire di verifica che ciò avvenga perché naturalmente se ciò non avviene gli incendi sono facilmente come dire attingibili e possono provocare come dire seri danni e nello stesso tempo io credo che bisogna anche fare in modo che i privati non facciano di tutto per evitare che altri possono come dire depositare nei loro terreni nei loro immobili magari fatiscenti materiale risulta materiale facilmente infiammabile come sembrerebbe sia stato nell'ingendio che è successo ieri che vi erano dei pneumatici noi intensificheremo i nostri controlli per quanto riguarda i terreni pubblici le vie le piazze però nello stesso tempo come dire richiederemo a tutti di predisporre le idonee misure per evitare il ripete se di tali nefasti episodi in misure che vengono adottate penso anche al Comune mi riferisco anche all'ingendio di Palazzo Bernini è opportuno che si intervenga anche in questi settori continueremo a vigilare su queste situazioni tenendo presente che certo la soluzione migliore è che l'utilizzo di quella struttura noi faremo di tutto magari variando il piano regolatore perché quella struttura possa essere alienata perché non c'è dubbio che il non uso di una struttura di quel genere può provocare diciamo queste disfunzioni queste criticità che sicuramente noi non vogliamo dal 26 al 28 giugno l'ex Monastero dei Benedettini di Catania ospita la sesta edizione di Teatri Riflessi il Festival Nazionale di Corti Teatrali per la sua valenza culturale l'iniziativa è inserita nella rassegna estiva a porta aperta alla musica al teatro e al cinema proposta all'Università degli Studi e Tennea siamo arrivati alla sesta edizione di uno degli appuntamenti più attesi nell'ambito delle attività culturali di Catania ma soprattutto fra le innovazioni in ambito culturale si si tratta infatti della sesta edizione di questa importante manifestazione che ormai ha assunto rilievo nazionale è stata anche ormai inserita nel cartellone dell'Università a porte aperte il Dipartimento di Scienze Umanistiche l'ha sempre sostenuta prima la facoltà di lettere perché abbiamo sempre creduto in questa iniziativa che ormai ha per così dire statura e capacità di camminare con le proprie forze perché vediamo appunto la risonanza in ambito nazionale di queste importanti manifestazioni e il Dipartimento e l'Università hanno anche il dovere oltre che il piacere di sostenere queste importanti manifestazioni culturali Un festival è nato secondo gli organizzatori di Iterculture per far avvicinare sempre di più il pubblico al vasto mondo del teatro sdogarando la sua accezione di spettacolo colto e offrendo pillole di un'arte completa che spazia alla drammaturgia e alla danza uno spettacolo offerto gratuitamente che dona alle compagnie l'opportunità di un momento interamente dedicato per esprimersi e creare i presupposti per il domani Radici il tema portante proposto nei 12 corti in gara di quest'anno un palcoscenico sotto le stelle unico e suggestivo dunque che durante la tre giorni accoglierà il pubblico dalle 18 alle 24 fino alla serata conclusiva del 28 giugno quando saranno assegnati i premi il riconoscimento di spazio design al miglior corto di atri riflessi 2015 la menzione della stampa il premio Alcantara per la miglior regia i premi offerti dall'azienda Caroli Elettronica per il miglior performer e per la migliore drammaturgia a questi si aggiungeranno i premi riflessi d'arte che Iterculture consegnerà al consorzio sportivo Catania al vertice all'affondatore il direttore giornale di Etna Comics Antonio Mannino e al maestro Gianni Salvo a vincere saranno anche i tanti sostenitori del festival che acquistando i biglietti e la lotteria dedicata potranno aggiudicarsi vacanze e tecnologie in palio da sei anni una delle manifestazioni più belle ma bisogna specificare una manifestazione che non riceve nessun finanziamento pubblico ma tutto viene fatto da chi ama il teatro e da chi crede in questa realtà sì e questo è lo spirito di Teatro e Riflessi e delle nostre associazioni interculture da anni noi come volontari infatti così ci autodefiniamo i volontari di interculture insieme alla collaborazione di soci partner perché è quello che facciamo sempre cerchiamo persone che vogliono condividere questo progetto quindi il networking come dico io sempre la chiave del nostro successo e poi chiediamo anche al pubblico se vuole di sostenere l'evento quest'anno grazie anche alla piattaforma laboriosa col crowdfunding e poi da sempre con la lotteria registrata regolarmente al monopolio e grazie ai partner che mettono i premi quindi quello che vogliamo realizzare insieme alla città è un evento per la città che parli di arte di cultura e sia un momento di riflessione da realizzare tutti insieme e infatti lo otteniamo anche grazie alla partecipazione di tanti teatri e tante realtà del territorio che accettano di partecipare come giurati nonché la stampa che sarà pure nostra giurata quindi tutti insieme per il teatro e per il territorio numerosi anche gli amici e gli ospiti che parteciperanno le malmaritate in qualità delle special guest Manuela Tolomeo accompagnata da Oria l'associazione Isola Acqua Sud di Manuela Pistone e Mary Inviscuso nonché due corti fuori concorso la riduzione di un non poeta normale l'associazione Calto Cultura e Possibili e nella sabbia per la sabbia di Lina Maria Ugolini con notizia la bella stai per la regia di Gianni Salvo Grazie a tutti